Salviamo Palazzo Martire. L'appello parte da Pedace nella Presila Cosentina dove sta crollando un antico edificio storico. Il comune è pronto ad acquisire l'immobile ma ci sono alcuni ostacoli di carattere burocratico e legale. Intanto cade letteralmente a pezzi quella che fu la residenza di patrioti, giuristi, militari e letterati. A Pedace è andato per noi Gennaro Cosentino. Mura entro le quali è passata la storia per oltre cinque secoli. Palazzo Martire si trova nel centro storico di Pedace nella Presila Cosentina. Dopo anni di fulgore e benessere, residenza di una famiglia nobile dalle gesta narrate sulle pagine di storia adesso cade a pezzi. Dopo che sono venuti giù ampi spazi di copertura, il pericolo crollo è reale. In questo palazzo sono vissute generazioni di uomini illustri, giuristi, politici, militari, retterati, patrioti. Tra tutti il deputato del primo Parlamento italiano Francesco Martire, il garibaldino Filomeno, il generale Borbonico Lorenzo e il più conosciuto Mario Martire morto nei campi di Mauthausen nel 1945 dopo aver combattuto per la libertà. È una realtà molto evidente che un po' fa rabbia a tutta la comunità pedagese perché questo palazzo ha rappresentato veramente un pezzo di storia importante per tutta Pedace. Un punto di riferimento in quanto sia ad iniziare dal secolo XVI ha avuto dei personaggi che si sono impegnati in tutte le attività umane. Nel 1988 l'edificio è stato dichiarato fabbricato di interesse storico dal Ministero dei Beni Culturali ma da allora il degrado è stato crescente. La famiglia non ha potuto riprenderlo, è passato ad una società oggetto di procedura fallimentare affidato ad una curatela ma adesso bisogna fare in fretta. Sarebbe opportuno che si creasse una magnifica cordata virtuale tra ente locale, organismi privati o comunque associativi che possano elaborare un progetto e catturare quindi i necessari finanziamenti per un organico riuso funzionale di questa struttura. All'appello di associazioni intellettuali hanno risposto gli enti, regione, provincia e comune di Pedace. Quest'ultimo pronto ad accettare l'immobile e ad intervenire, lo conferma il sindaco, Nuccio Martire. Io lo vorrei associare ad un altro importante stabile che abbiamo qui a Pedace che è il convento di San Francesco. Quindi l'agurio che oggi voglio rivolgere a questo stabile è che possa avere la stessa sorte del convento. Oggi il convento è stato ristrutturato ed è sede di un'associazione che si occupa di conservazione e restauro. Mi auguro che anche questo Palazzo Martire da qui a breve possa avere la stessa destinazione.